è scesa dal treno per recuperare una borsa su una panchina della stazione di prato lasciando i due figli a bordo e non riuscendo a risalire con loro momenti di apprezzione tra le stazioni di prato e firenze dove i due fratellini sono ripartiti mentre la loro madre rimasta chiusa fuori dal convoglio la donna era infatti salita sul regionale insieme ai figli ma proprio all'ultimo momento si è resa conto che uno dei bambini aveva dimenticato lo zainetto è scesa per prenderlo ma non ha fatto in tempo a risalire sul treno che è partito in direzione di firenze la donna chiaramente preoccupata subito avvertito la polfer di prato centrale che a sua volta allertato la centrale operativa del compartimento di firenze per inviare una pattuglia ad attendere il treno su cui viaggiavano i due piccoli rintracciati i bambini sono stati tranquillizzati accompagnati negli uffici di polizia dove qualche minuto dopo hanno potuto riabbracciare la madre